Mentre anche in questo mese di marzo prosegue il piano di manutenzioni stradali del comune di Pesero, resta lunga la lista di strade colabrodo minate da pericolose buche e dissesti. Non mancano infatti i telespettatori di Rossini TV che segnalano lo stato sempre più degradante in cui versa la zona industriale pesarese di via Lombardia e via Toscana. Strade che diventano uno slalom ad ostacoli fra pericolose voragini non aiutate dal transito costante di mezzi, anche pesanti, in una zona densamente popolata di aziende, così come di palestre, del mercato ortofrutticolo della Coldiretti e dello stesso auditorium di Marche Multiservizi. Al di là del degrado resta alto anche il pericolo, soprattutto per il ciclomotore e il loro annesso rischio caduta. Rischio emblematico quando le crepe spuntano dopo un angolo cieco in piena curva. Segnalazioni che dunque vogliono sollecitare un intervento di manutenzione preventivo a danni o incidenti, segnalazioni che ricordiamo potete indicare al numero WhatsApp dedicato di Rossini TV 370-366-7210.